Amici di Calcio Napoli 24, siamo qui al Random Carrier Resort dove il Napoli sta svolgendo e ultimando la sua preparazione domani ci sarà la partita contro il Crystal Palace ma adesso vi portiamo alla scoperta di quello che è un enorme resort dove gli uomini di spalletti sostanzialmente hanno tutti i comfort, vediamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti